Qua, grazie. Dottor Sala, qua, grazie. Dottor Sala alla sua destra, grazie. No, vi spiego tra l'altro un piccolo segreto che penso che qui ci siano anche tanti milanisti. Io la mia fede la conoscono quasi tutti e ho questa debolezza. All'inizio questo era un bel nero, ora i cugini milanisti non me ne vogliono, anzi dico che non vi compromettete se voterete per me, ma insomma l'abbiamo virato in un grigio e sta molto bene anche il grigio. E quindi questa immagine ci accompagnerà fino al 7 febbraio, ovviamente noi tutti speriamo anche dopo il 7 febbraio. La seconda cosa, la seconda cosa è che da quando ho pensato appunto di impegnarmi ho trovato subito tanta gente che mi ha accompagnato in questa fase per me critica, ovviamente delicata, e che mi ha reso più facile questo inizio di traghettamento. Ora, qui ci sono tante tante persone, potrei usare appunto tutto questo tema per ringraziare tutti, volevo ricordare però in particolare gli assessori e quindi la Benelli, diciamo Milano, la Benelli, la Visconti, la Rozza, la Tajani, mentre non diciamo il, ma dal Bonso, Maran e Granelli. Poi c'è Milano, c'è Lele, piano, volevo ringraziare in particolare Lele, piano.